Tutto ma non questo 1-0 con la Spal 1-0 con la Spal Goal di Pettania Preferivo perdere 4-0 Ho detto 0-0 Facciamo anche un video che Predicavo calma Predicavo comunque obiettività Perché non eravamo fenomeni domenica E non siamo pippe adesso Poteva capitare 1-0-0 E ci sta anche di perdere 1-0 Ragazzi Non siamo il Barcellona Però Pettania no Cazzo Sto coglione Non ha mai fatto niente Nella sua vita Quest'anno si è messo a segnare Ci ha rotto il cazzo Anche oggi Porca vacca Ci ha rotto Scusate il linguaggio Vabbè Ragazzi Cosa vi devo dire Secondo me Inzaghi Vabbè Lui Li vede lui Giocatore in settimana Quindi saprà più di me Però secondo me Ha sbagliato Perché doveva far giocare Romulo Dall'inizio Marusic Non deve mettere più piedi In un campo di calcio Io se trovo ancora un laziale Che dice che Marusic Li piace Che Io veramente Li dico di tutto Perché Marusic Non deve più calcare Un prato verde Non deve più Metterci un piede Perché è una pippa Di merda Proprio una pippa Non giocherebbe neanche In promozione Marusic È proprio una merda E poi Cazzo Dove metterlo dall'inizio Perché Immobile Già Immobile Fa cagare la minchia Perché Immobile Fa cagare la minchia Adesso mi ha rotto il cazzo Che non sa più controllare Un pallone Ma Tatticamente Quando ti trovi Una difesa schierata Devi metterci due punte Due punte Che poi non è che sono Due punte fisse Perché Immobile Svaria molto E Caissiede una seconda punta Correa Lo metti nel secondo tempo Che gli altri Sono stanchi In contropiede Capito Ma lo capisce anche un bambino Inzaghi Lo capisce Per carità Capita di sbagliare Io ti ho detto Domenico Hai fatto la partita perfetta Non eri Guardiola domenica Non sei Franco Colomba oggi Però comunque Resti un buon allenatore Però oggi Hai sbagliato scelte Oggi hai sbagliato scelte Noi abbiamo impostato la partita Abbiamo detto Teniamolo 0-0 Come abbiamo fatto tante altre volte Poi facciamo l'1-0 E la chiudiamo lì Il problema è che Non sempre così La Spal è in salute Poi la Spal ha battuto Roma Frosinone e noi Cioè Proprio Le tre laziali Io non mi aspettavo Oggi non mi aspettavo Un pareggio poteva anche aspettare Ma la sconfitta Non me l'aspettavo E poi ripeto Non abbiamo più i cambi Dell'anno scorso Cioè in questa partita Quando ti trovi una difesa schierata Tu devi cercare di allargare le maglie Della difesa Allargare il gioco Sulle fasce E invece E invece E invece C'hai Marudic Che è un handicapato Non in quel senso lì però A giocare a calcio Un handicapato A destra Ok Dall'altra parte C'hai Lulic E l'anno scorso Avevi Lukaku Da mettere Quest'anno Lukaku Non ce l'hai più Perché io non so Cos'ha sto Lukaku Ok Non so cos'ha Hai Durmisi Che ho capito Che non è un giocatore Da Serie A Non è adatto Non è che sia scarso Ma non è adatto È troppo piccolino È un metro e cinquanta È piccolo così Cioè dove vai Con Durmisi ragazzi Che la spalla Sono belli grossi Anche comunque Cioè devi avere un Lukaku L'anno scorso Infatti abbiamo vinto Vincevamo tante partite Con Lukaku Che entrava nella ripresa Mi pare anche proprio In questa partita Era entrato nella ripresa Comunque aveva fatto bene E ci mancano Quei ricambi lì Che Lukaku Non è un fenomeno Però comunque serviva Quest'anno non ce l'hai più Era un giocatore fondamentale Da mettere E poi ripeto In panchina Prova a far cambiare Un po' qualcosa Prova anche magari Era cambiare modulo in corsa Dovevi fare qualcosa Perché la squadra Vedevi che La partita ce l'avevi in controllo Perché poi il rigore Che ci può stare Ma la spalla Non avrebbe mai segnato Cioè noi in difesa Quest'anno stiamo giocando bene Abbiamo tra le migliori difese Del campionato Non abbiamo rischiato niente Quindi la difesa Non si può dire Più di tanto Però vedevi che In attacco Non abbiamo creato Zero occasione A parte una con lei Ma una mezza occasione Quindi tu dovevi cambiare Prova a rimescolare le carte Anche la difesa 4 È in corsa È in corsa Perché dall'inizio Sono il primo a dire Che la difesa 4 Non possiamo farla Ma in corsa Prova a cambiare Prova a cambiare Però ripeto Io a parte poi L'incazzatura iniziale Che è più verso Pettania Che è verso la sconfitta Perché io vi dico la verità Io non sono allarmato Per questa sconfitta La squadra comunque Resta in salute Domenica Dobbiamo vincere Ovviamente Con il Sassuolo Poi abbiamo un recupero Il Milan Va contro la Juve Quindi ragazzi Siamo in piena corsa Poi io Magari poi arriviamo qui Come l'anno scorso Di un punto Però in questo momento Noi siamo in piena corsa Quindi non mi esaltavo Non mi esaltavo Troppo domenica Neanche oggi Mi butto troppo giù Ragazzi Quindi calma Io vedo già gente Che mi scrive Siamo scarsi Ma calma 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 Oggi un episodio sfortunato L'incazzatura Che non poteva segnare Flockari Che gli faccio con un applauso Bravo Flockari Grande signore Grande giocatore Ero qua Se ne ha Flockari Ero contento per lui Vi dico la verità Invece proprio Pettano E vabbè Ragazzi Mi sto tanto anche Parlando con voi Sto smaltendo un po' La rabbia E niente ragazzi Mi su Instagram Like al video Iscrivetevi al canale Almeno quello Ciao Pettagna sbloccami Che ti rinsulto Madonna